Musica Spaventoso incidente a Pozzuoli, giovane perde il controllo dell'auto e finisce tra il ponte e un muretto Follia su un treno della Cumana, chiede a tre ragazzine di smettere di fumare ma viene picchiata Il mare di Pozzuoli è balneabile, out l'icola, i dati dell'ARPAC Ai nastri di partenza il Festival dello Sport a Monte Ruscello Tutto pronto per la decima edizione di Malazze Salve a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del video giornale di Cronaca Flegrea Apriamo subito con una notizia di cronaca che ci giunge da Pozzuoli Perde il controllo dell'auto, esce fuori strada e finisce per incastrarsi tra il ponte e un muretto E' accaduto sul ponte Copin, nei pressi della Solfatara di Pozzuoli Il lese è rimasta la conducente della Fiat 600 Incastrata tra un pilone della grossa struttura e il piccolo marciapiede Una scena che ha fatto temere il peggio, vista la posizione in cui è finita la vettura Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i vigili del fuoco La conducente è una giovane residente nel comune di Quarto Ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato l'incredibile incidente Tra l'ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbero l'alta velocità e probabilmente una distrazione Vista anche la posizione in cui è finita la vettura Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto E con la cronaca restiamo ancora a Pozzuoli Follia su un trenno della Cumana dove una 17enne è stata presa a calci e pugni Solo per aver chiesto a tre ragazzine di non fumare più È accaduto presso la stazione di Lucrino Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà Due ragazze napoletane di 15 anni Ritenute responsabili di lesioni personali e di interruzione di pubblico servizio Per lo stesso motivo è stata segnalata al Tribunale per i minori una ragazzina di 12 anni In quanto non imputabile La 17enne aggredita è stata portata in ospedale Ne avrà per 5 giorni E restiamo ancora a Pozzuoli con una bella notizia Le acque della città sono per lo più balneabili E' quanto emerge dalla delibera della Giunta regionale della Campania In merito alla qualità delle acque marine Le analisi dell'ARPAC infatti hanno stabilito che sono balneabili Le acque di Arcofilice, Lucrino e La Pietra Categorizzate come eccellenti Non balneabile invece l'area che va dal Caligoliano fino al Ponte della Pirelli E' l'area di Licola ridosso del collettore di Cuma E' classificata come scarsa invece la quasi totalità del litorale di Licola Via Napoli risulta invece balneabile in quanto di nuova classificazione Partirà lunedì la seconda edizione del Festival dello Sport Manifestazione sportiva sfondo sociale organizzata dai giovani democratici di Pozzuoli In collaborazione con la WISP e lo Sporting Club Flegreo Una settimana intera dedicato allo sport con i tornei di calcetto, volley e basket Che si disputeranno al Palatrincone di Monteruscello Domenica il gran finale in piazza Severini nel quartiere putiolano Con tante iniziative per i più piccoli ma anche per gli adulti La giornata avrà come epilogo finale la passeggiata per Teleton E concludiamo questo videogiornale con Malazè Si terrà lunedì 15 giugno alle ore 18 L'anteprima della decima edizione dell'evento enogastronomico dei Campi Flegrei L'appuntamento quest'anno è presso la struttura Blue Yachting Club in via Miliscola a Lucrino Tipicamente Flegreo è l'Hastag che caratterizzerà il decennale dell'ormai famosissima manifestazione Organizzata dal padron Rosario Mattera Che andrà in scena dal 5 al 15 settembre E a questo punto non vi resta che salutarvi E darvi appuntamento alla prossima edizione del videogiornale di Cronaca Flegrea Grazie a tutti